Io sono Guto Anquillo, proprietaria di Livanano, il Chianti classico, il posto a Radin Chianti. Oh, io sono scrittore, mi piace mangiare, mi piace la vita dolce qui in Italia, perché la gente è molto felice qui. Il nostro team è Casalvento a Livanano e siamo una famiglia, siamo sempre insieme, e mi è piaciuto il posto perché ci sono gli alberi, i cipressi, il perfumo. Per me, io amo il perfume del Chianti classico. In Radar siamo a 605 metri, molto alto, il diere è sasso. I nostri vignetti bisogna lavorare tantissimo per crescere. Una uva di fantastico, perché il Sangiovese è una uva dove sentire il sapore di bosco, il sapore di sassi, il sapore dell'erba, ci sono tutti dentro. E per me, io ho innamorato nel Livanano, nel Chianti classico e nel Radin Chianti.